Cody Rhodes ha rivelato di aver avuto una discussione chiarificatrice con Triple H durante il weekend di Wrestlemania e l'ha definita un momento toccante. L'American Nightmare ha ribadito di vedere nel Re dei Re un esempio da seguire, ma anche di aver provato verso di lui parecchia rabbia e frustrazione. Per questo gli piacerebbe trasportare tutte queste emozioni dalla vita reale al ring per chiudere il cerchio in un match ufficiale. Visti i recenti problemi di salute di Triple H, tuttavia, è ben conscio che questo desiderio difficilmente si realizzerà. Con un video diffuso sui social WWE, Becky Lynch ha spiegato di non sentirsi ancora pronta per tornare a Raw senza la cintura di campionessa, visto che l'ultima volta che ha partecipato ad una puntata televisiva dallo Show Rosso priva del titolo risale a tre anni fa. Becky ha anche aggiunto di aver comunque un piano per reimpossessarsi di quanto ha ceduto a Bianca Belair. In una recente intervista, Triple H ha sottolineato come gli atleti universitari che la federazione vuole inserire nel suo percorso di crescita al Performance Center abbiano per lo più un'etica lavorativa seria e tenace. Questo a differenza di molte star provenienti dalle federazioni minori che in quanto a performer sono sovente già svezzati ma presentano zone d'ombra caratteriali e comportamentali che spesso li rendono e li hanno resi degli investimenti sbagliati. Grazie. Grazie.